La mia nonna mi ha fatto il regalo più bello del mondo. Con lei mi diverto tanto. Mi ha anche insegnato ad andare in bici come i grandi. Facciamo ancora più cose insieme da quando è andata da Amplifon. Un signore bravo, bravo, le ha messo un coso piccolo piccolo alle orecchie. Così mi ascolta sempre. E ora è la mia super nonna. Per sentirsi meglio, basta provarci. Controllo dell'udito e prova per 30 giorni gratis. Chiama 800-500-700. Chiama 800-500.